Le parole di Rafa Nadal su Carlos Alcaraz sono a dir poco entusiasmanti nel senso che lui afferma che la sensazione basata ovviamente su quello che si vede in campo di questo giovane spagnolo è che oltre alla qualità altissima lui possa vincere su ogni campo mentre per quanto riguarda lui stesso Federer e Djokovic magari ognuno di loro aveva la propria predisposizione giocava meglio su un campo in particolare, chi sull'erba, chi sul cemento, chi sulla terra per Nadal Alcaraz è un giocatore che può giocarsela tranquillamente su ogni campo la sensazione è come ha affermato Rafa Nadal che sia veramente uno di quei giocatori che entrerà nella storia certo c'è Sinner subito vicino e sono sicuramente i due giocatori difficilmente più difficilmente superabili in un match ma su Alcaraz ha usato Nadal delle parole veramente molto precise e molto sicure anche nel senso che lui proprio vede in questo talento spagnolo giovanissimo, talento spagnolo una invincibilità importante, una qualità altissima e soprattutto ripeto come a differenza di altri giocatori come lui che sono comunque entrati nella storia del tennis, dei grandi slumi, degli ATP questa capacità di riuscire a giocare con una qualità altissima su ogni campo quindi un futuro radioso per Carlos Alcaraz naturalmente si sa che quando poi arriva un giovane talento arriva così in alto le pressioni sono tante però Carlos Alcaraz ha dimostrato una grande forza di carattere soprattutto se ricordiamo appunto la finale di Wimbledon ma veramente il suo talento è smisurato e quindi Nadal appunto non fa altro che sottolineare quello che in realtà noi abbiamo già visto che è veramente evidente e palese a tutti sia gli intenditori di tennis sia i non intenditori di tennis questo volevo dirvi, volevo appunto farvi sapere insomma qual è stata la giustamente insomma la versione di Nadal visto che comunque è il diretto sostituto spagnolo e quindi questo è vi ringrazio e alla prossima grazie a tutti